amici di giallo oggi un ragù di gallinella trito un cipollotto taglio pomodorini sfiletto la gallinella conservo gli scarti e trito i filetti in pentola cipollotto pomodori aneto e le lische della gallinella adoro quando con gli scarti si creano dei sapori sensazionali faccio cuocere per circa 20 minuti tolgo le lische e unisco la pasta continuo a risottarla con acqua calda fuori dal fuoco manteco unendo i filetti di gallinella che si cuoceranno con il calore della pasta in piatto unisco altro aneto è davvero gustoso ma che bontà